E l'Argentina la prima finalista di questo folle mondiale in Qatar. I sudamericani passano il turno eliminando all'USAIL per 3-0 la Croazia. Ingiocabile l'albiceleste per gli europei che incassano due reti in 5 minuti. La prima firmata Messi dagli 11 metri, la seconda su contropiede di Alvarez. E' sempre dell'attaccante del Manchester City il gol nella ripresa che chiude l'incontro. Di fronte agli uomini di Scaloni questa domenica ci sarà la vincente dell'attesissimo scontro tra Francia e Marocco. Grazie a tutti.